9.211 spettatori alla Vitri Frigo Arena si regalano un Santo Stefano da tutto esaurito nell'astronave. Ed è stato un Monday Night festivo trascorso ad applaudire una VL coriacea e combattiva che ha ceduto alla capolista Virtus Bologna solo dopo un tempo supplementare. La VL chiude la partita a testa alta con una sconfitta 82-87 all'overtime, epilogo di un match appassionante in cui la Sega Fredo prova a scappare solo nel primo quarto chiuso sul 25-18 ma la VL è sempre lì a controbattere colpo su colpo. Dal primo tempo chiuso sul vantaggio pesarese 40-39 al 73-73 sulla Sirena deciso da una bomba del Virtusino Bellinelli a 16 secondi dal termine. Nelle supplementare la VL c'è ma deve fare a meno prima di Mazzola infortunato, idem per Delfino e poi pure di Moretti uscito per 5 falli. Nel finale Schenghelia timbra il sorpasso, Citan perde palla in attacco e Wim segna l'82-87 conclusivo. Il 2022 della VL si concluderà il 30 dicembre a Reggio Emilia e ci arriverà una Carpegna Prosciutto Basket pronta a sgomitare in un quartetto di 4 squadre a 14 punti collocate fra quarto e settimo posto. Non c'è però solo il campo ad occupare i pensieri ma anche l'infermeria. Il risponso medico sull'infortunio riportato da Valerio Mazzola ha dato oggi il peggiore dei verdetti. Il giocatore ha riportato un trauma alla gamba destra con rottura del tendine d'Achille. Mazzola sarà così sottoposto a intervento chirurgico di riparazione da parte del dottor Raulzini presso la clinica Maria Cecilia Hospital di Cotignola e per la VL occorrerà giocoforza tornare sul mercato. Dal basket alla pallavolo è stato uno splendido boxing day per la Megabox Vallefoglia che Urbino ha vinto in 3-7 il derby con Macerata. Nel calcio invece il 2022 della Vispesoro si era chiuso il 23 dicembre nelle peggiore dei modi con la terza sconfitta su tre uscite di Mister Brevi che con la Recanatese ha perso un sanguinoso match salvezza. A decidere è stata una rete di sbaffo al 91esimo per una Vis che chiude il 2022 con 13 partite di fila senza vittoria e soprattutto con un avvilente penultimo posto in classifica. Grazie a tutti.